E' una storia che ha per luogo Parigi nell'anno del Signore, 1482, storia d'amore e di passione. E noi gli artisti senza nome della scultura e della rima la faremo rivivere da oggi all'avvenire. E questo è il tempo delle cattedrali, da pietra si fa, statua, musica, poesia, tutto sale su verso le stelle. E su mura vedrate la scrittura architettura. Con tante pietre e tanti giorni, con le passioni secolari, l'uomo ha levato le sue torri con le sue mani popolari. E con la musica e le parole ha cantato cos'è l'amore e come vola un'idea nei cieli del domani. E questo è il tempo delle cattedrali, da pietra si fa, statua, musica, poesia, tutto sale su verso le stelle. E su mura vedrate la scrittura, la scrittura, la scrittura, la scrittura, la scrittura. Mi crolla il tempo delle cattedrali, la pietra sarà. Oggi è il tempo delle cattedrale, la scrittura, la scrittura, la scrittura, la scrittura. Grazie a tutti